Ciao a tutti i coriccini, benvenuti in questo nuovissimo video! Ma... Eita, Manessa, venite! Abbiamo cominciato il video! Ma sono giganti! Si, sono arrivati! Guardate che bacchi grandi sono arrivati! Questo è mio! Questo è mio! Vabbè, vabbè, è di tutti perché qua sono tantissime cose! Cos'è? Vi potete immaginare? Non, io lo voglio aprire adesso! Veramente sono arrivati! Velocissimi questi bacchi! Ragazzi, Temu è appena sbarcato nel mercato italiano e dovete scaricare questa bellissima applicazione! E mi raccomando, così lo vuoi! Si, fatto! Allora, voglio precisare che questa è una collaborazione, praticamente ci hanno contattato loro, giusto? E noi abbiamo dovuto entrare nel link che ci hanno mandato loro e abbiamo scelto un paio di accessori! Temu è una piattaforma gigante! E praticamente nell'app troverete di tutto! Giucattoli! Libri! Moda bambini! Accessori per la cucina! Per il bagno! Vi potete immaginare? Ma tante cose, allora! Sono veramente tantissime cose! Cose per scuola! Ah, sì? E noi? I vestiti! I vestiti! Giù lo stanno! No, no, vestiti no! Ci sono! Ve li devo far vedere! Praticamente, quello che è arrivato a noi, niente vestiti! Però io ho visto un paio di vestiti! Cioè, bellissimi! Coricini con il nostro codice! Ve lo dico qual è! DKD7442 Se hai messo nella barra di ricerca dell'applicazione di Temu Praticamente per i nuovi iscritti Potete ottenere un buono di 50% Vi potete immaginare? È un altro buono! Praticamente potete ottenere un altro sconto del 90% Sui miei prodotti selezionati Basta cliccare sul nostro link personalizzato Ragazze? Ce la fate a... Sì! Spacchettare questi pacchi? Ma cosa c'è? Ma allora direi Tirate fuori tutti e tutti gli articoli Mi sto vedendo qualcosa di molto molto bello È lo kitty! Dai dai dai! Tira Vanessa! Tira fuori tutto! Cosa c'è dentro Vanessa? Dai apri! Cosa fai? Lì non vuole guardare! Cosa c'è? Paloncini! Wow! Qua c'è un buchetto Possiamo mettere l'acqua dentro Questo paloncino Una pala praticamente Diventa grandissima Faremo un altro video Sarà una sfida Vediamo vediamo No! Non guardate! Non guardate dentro Cosa c'è? Ah non ci riesco da... Vabbè questo è rosso Cos'è? Lo aprirò Lo aprirò Cotton fiocchi Così non stanno in giro Ecco non li perdete nei... Qua c'è un tappo È un tappo di legno Ecco qua i cotton fiocchi Vi facciamo vedere Guardate È semplicissimo Veramente molto molto bello Ecco curicini Questo è un cestino Portapene e matite Ha due, quattro, cinque scomparsi Guardate che carino Di chi sarà questa? Perché c'è ancora un'altra Credo questa sarà mia Giusto? Guardate Qua dentro ci sono I numeri Per me, allora Guardate È mio E voi dovete ripassare qua Se tocco Si sentono proprio i numeri È un libro Veramente bellissimo Mamma adesso mi faccio la posta Bellissimo L'abbiamo visto Ma Ma ci sono anche dei disegni Mamma Mamma adesso mettiamo giù È la pena Mamma adesso mettiamo giù Sì 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 scusami Vanessa Questi li mettiamo dentro Guardatelo È bellissimo questo libro Praticamente Voglio spiegarvi come Guardate il mio compiliano Con il tuo compiliano Va bene Guardate c'è la pena E qua praticamente Si deve mettere l'acqua E colorate Guardate Cosa dovete farvi vedere? Sì Vanessa ti piace? Sì Io voglio disegnare tutto Va bene Ecco Ecco il camicino Veramente molto molto bello Vi voglio presentare questa scatola rosa Guardate queste maniglie Tipo a forma di coniglietto Ma sono a forma di coniglietto Sì 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 Ecco Ha due cassetti Rosa E qua Quello di sopra è mio Lo sapete per cosa? Possiamo usare questa scatola? Si mettiamo penarelli Scatola Direi di mettere i trucchi Tipo qua un paio di pennelli Trucchi Qua i Non lo so Urechini O rossetti Molto molto bello Rosa Se non mi sbaglio c'è anche il bianco Lascerò nella descrizione il link Ma che buono! Ma guardate questi Ma ci sono tanti Si Praticamente Questi sono copripiedi anti scivolo Per se per i piedi così non facciamo rumore Si 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 Non fate anche rumore con i cini E non si volate con la sedia Si 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 Sono molto molto accessibile In una casa a cui si servono Wow Cioè ma ragazzi Questo non deve mancare A voi belle signore Perché questo è un affettatore Per il cavolo Praticamente Quando fai l'insalata Usi questo Non usi più il coltello È veramente un bel cosa Mi sembra molto rigido Si 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 Oggi lo devo provare Guardate queste bellissime molette Questa è di caramella Quale ti piace Vanessa? Dai te la metto Mettiamo Guarda Questa è una moletta Praticamente Arco Baleno Te la metto qua Io questa rosa Wow ma è bellissima Guarda Te la metto Si Va bene Dai te la metto tipo così Guarda Tipo un fiocco Molto molto bella E mi metto anche io una Guardate Io mi metto questa Facciamo vedere i vostri cuoricini Guardate Ma sono carinissimi Guardate Allora direi di farti così Vanessa Scegli un colore Sono dieci molette Ma io questa oro Ah si ti piace? Si Come si chiama? Molette a fiocco tipo Mamma Molette a fiocco tipo Sì Aspetta un pochino Ok Dai ti metto questo Qua Aspetta aspetta che lo mettiamo Questo fiocco qua Ti metto anche te Erika Wow Ma si Io sono proprio innamorata Io amo da morire Tutti elasticini Un altro Un altro pacco Vediamo vediamo Allora vediamo adesso cosa è Stai mettendo Lo spostiamo da un'altra parte Bella Un cerchietto Un cerchietto Un cerchietto Questo è il cerchietto Di quale vi parlavo Ma lo devi togliere Perché hai tantissimi fiocchi già Si è anche questo E' bellissimo Veramente Fatto bene Adesso tocca a me Si si adesso tocca a te Volevo dirvi che Sono tantissimi colori Bianchi rosa Cioè mille colori ragazzi cosa c'è vediamo 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 tira fuori questo è un taglia avocado qui fai a pezzi praticamente infilli dentro e i pezzi già escono fuori tipo quell'avocado schiacci e lui non cade poi lo puoi tagliare a pezzi cos'è questo sono tantissimi elasticcini praticamente sono o 100 o 200 elasticcini guardate no 200 elasticcini colorati cos'è lo vedete meglio si si aprilo dai è una stampa a cuore si è per le uova la mattina invece di farvi il uovo c'è proprio quello tondo che non esce molto bene vi farò le uova a forma di cuore guardate tocca a te dai 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 ecco queste sono delle borse a grande capacità apritele c'è solo una ma vi voglio far vedere la sua dimensione praticamente ragazzi questa borsa e anche polvere e vi aiuterà tantissimo a ordinare la vostra casa e avere tutto in ordine tra punte cuscini vestiti cambio stagione messi lì da una parte in ordine sistemati non ci posso credere una cosa veramente una cosa ragazzi che non potete immaginare ma guardate questi coland allora questi sono sì per te e devo acquistare anche un paio per vanessa cioè vanessa sta girando intorno guardate sono coland e qua c'è un coniglietto 3d ecco qua c'è una carotina sono veramente carinissimi cotone sono morbidissimi c'è la sua elasticità molto molto belli guardate c'è veramente io ne acquisterò ancora 3 4 5 di questo tipo sono anche rosa bianchi neri tantissimi colori ragazzi volevo mostrarvi le cuffie però erica perché contentissima lo sapete cosa ha detto che queste cuffie sono sue guardate praticamente sono le cuffie lenovo guardate qua lenovo ecco mi potete immaginare che sono vendute proprio direttamente da lenovo sul sito temo e la potete trovare anche nell'applicazione pronte pronte wow wow aspetta un pochino guardatele ma ci vanno perfettamente li dobbiamo provare vediamo cosa c'è ancora qua dentro c'è il suo libretto ve lo faccio vedere ecco ma sono rosa ma sono perché lo sento così bene costano veramente pochissimo e il cavo e il cavo per caricarle per metterle nel telefono praticamente si 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 guardate qua c'è tutto il kit vi potete immaginare cuffie lenovo wireless 2023 sono rosa anche vanessa ce l'ha delle cuffie ma queste sono delissime oh candela wow aspetta tiriamola fuori vai a vedere a vanessa vai a vedere i tuoi coricini guardate guardate aspetta la mettiamo qua guardate una candela rosa ma che bel profumo è bellissima rosa eh avete visto che sono tantissime cose rosa cuffie rosa portapene candele andiamo avanti coricini questa praticamente è una borsa è mia questa invece sempre rosa è bellissima è bellissima dei rossetti si apre è molto ma lei si mettono i rossetti mi sta si 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 per portarla con te nella valigia guarda vi faccio vedere qui si prende la dobbiamo chiudere però va bene la chiudiamo vi faccio vedere da qui si prende e cammini con il nanana si 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 questa è la mia ecco adesso di chi è è mia dai perché è stata male perché lei non ce l'ha di quelle va bene ecco va bene un'altra cosa volevo farvi vedere queste pene vuoi che le apro sono le apre le apre sono le mie sono le mie sono di tutte sono sei pene colorate c'è rosa lilla giuro e qua aspettate ancora non aprirle perché vi voglio far vedere questo ma ma quanto scrive praticamente guardate qua ci sono due puntine e un coricino due puntini e un coricino proviamo aspetta un pochino wow vi faccio vedere guardate si vede si si potete scrivere nei vostri quaderni in un modo più speciale e dopo posso anche io provare sono tipo queste stelline vado a provare dopo ci sono le rive belle belle per la scuola queste pene vanno benissimo erica vi presenta dei adesivi questi si mettono davanti ai vostri letti bello così si lumina tutto sono stelline giusto stelline colorate li metteremo per dopo e di note si accenderanno perché sono fosforescenti quanti sono qua vediamo sono cento cento pezzi guardate la sua dimensione ne apriamo per dopo va bene adesso presentiamo tutti i prodotti aspetta che apriamo qualcosa di molto molto speciale per vanessa sono i calzini anti scivolo anche io li vorrei anche tu li vorrei allora questi sono calzini anti scivolo per vanessa certo li troviamo adesso tutte e due tutte e due e ve li faccio vedere vanno molto bene per la scuola la scuola materna guardate è il piacere di vanessa bello 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 dovrei costare ancora altri paio lo sai anche per te giusto giusto ci sono due palestre lo sai che ci sono due palestre si bellissimi anche questi calzini non dimenticate che giù nei commenti lascerò ho il link con tutti questi articoli belli lo potrei lo potrei aprire così lo vedete bene eh si dovete vedere questa cosa bella ragazzi io mi sono proprio innamorata di questa decorazione praticamente no io lo venderò da me nel kit praticamente nel pacco viene anche questo adesivo lo potete incolare sul parete e potete attaccare le vostre molette dai adesso vi faccio vedere quello che faremo noi coricini noi abbiamo messo questa decorazione qua vicino allo specchio è bellissima cioè è proprio bellissima guardate questo è legno qua sono delle corde e questi sono i fiocchi che li abbiamo ricevuti oggi e anche questi vi voglio mostrare questo bellissimo supporto rosa portapene girevole guardate ha uno, due, tre scomparsi è bellissimo vi presento questo cestelo per lavelo però non è un semplice cestelo questo si allunga e si stringe allunga stringe potete lavare la frutta, verdura quello che volete per me sarà una cosa meravigliosa adesso vi voglio presentare un grain view veramente bellissimo vi faccio vedere anche il disegno eccolo qua guardate ma quanto è carino ecco è molto bello si 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 la lunghezza e volevo dirvi che è resistente all'olio da oggi in poi non mi sporco più un'altra cosa bellissima che a me mi è piaciuto tantissimo è questa bottiglia spray eccola è trasparente è di plastica ma è una plastica dura funziona bene direi e puoi mettere l'olio acqua adesso voglio presentarvi alcune borse che sono arrivate e cioè se volete avere una casa ordinata le cose bene messe a posto tutto pulito li dovete acquistare praticamente in questa borsa è abbastanza grande la maniglia ha la maniglia come vedete guardate la sua grandezza è come materiale wow io la userò tipo così ecco la userò così per mettere i giochi di erica e di vanessa si apre eccola è molto rigida e si chiude bella bella la consiglio dopo un'altra borsa sempre alla maniglia ci sono varie misure colori un'altra molto molto bella c'è veramente bellissima è questa ci sentite è un po' durina però è bella bella anche come tonalità del colore questa se non mi sbaglio è la misura più grande che c'era sempre la lampa si chiude si apre wow ma questa è il gigante c'entra anche io qua dentro vabbè è mega gigante questa c'è anche questo cestello filtro praticamente quando lavate il riso sempre cadono un paio giù e dite mamma mia devo raccoglierlo buttarlo oh cosa devo fare questo cestello vi aiuterà praticamente lo tenete da questa parte mettete dentro ma anche la frutta anche la verdura e l'acqua andrà giù da questa parte abbiamo preso questa copertina per cani e gatti la nostra è una S non mi sbaglio sì ecco è una S però sono varie misure ml xm questo cestino per mettere dentro boh non lo so io la userò proprio in bagno e metterò dentro i miei tipo shampoo una plastica dura una plastica dura bella ho pensato di prendere questa borsa per mettere dentro le scarpe guardate se vai in viaggio te la prendi te la metti nella borsa c'è anche questo cestino per mettere dentro boh non lo so è grigia uno due tre quattro cinque per scommarsi come vedete potete mettere non lo so i gioelli o potete mettere i calzini o la biancheria ecco sono cinque cannucce di vetro e qua guardate cosa sono sono le farfalline c'è una anche rosa guardate che carina ma è bellissima sono anche queste due spazzoline per lavarle praticamente li infili dentro e là di tutto ecco volevo farvi vedere questo gattino è praticamente è un segnalibro sono arrivate anche le bimbe venite che vi voglio far vedere ciao guardate cosa ho qua è un gatto Erika volevo farti vedere anche a te guarda questi pirottini praticamente sono 100 pirottini sono rosa questo sono di carta la potete mettere in forma ecco per preparare i muti ma guardate cuoricini è arrivato il momento di presentarvi questo proiettore stelato è tutto plastica qua è sempre plastica questo filo e ce l'ha anche un telecomando così potete cambiare i colori ok ma proviamolo vediamo di cosa si parla wow non ci posso credere tu stai cambiando adesso? si c'è anche qui la luna mezza luna che cosa pazzesca ma guardate che bel effetto fa dov'è la luna adesso? dov'è la luna? ecco wow che bello c'è questo c'è ma è veramente guardate che bel effetto qua praticamente questa blu è lo specchio guardate wow dai basta comincio io ehi basta questo video finisce qua speriamo che vi sia taciuto e volevo dirvi che aspetta basta dai stiamo serie noi siamo delle persone serie delle ragazze molto serie ecco volevo dirvi la mia opinione praticamente facendo shopping su Temu è stato bellissimo Temu? si Temu ecco da oggi in poi dovete sapere che questa applicazione app che lo dovete scaricare è top è veramente top i prezzi sono super super bassi come avete visto il pacco praticamente è arrivato in una settimana ecco voi scrivete giù nei commenti quale prodotto vi è piaciuto di più se avete fatto dei acusti su Temu ci vediamo nel prossimo video si giusto? a me mi è piaciuto di più le cuffie di cuffie e a te? come ti è piaciuto? dai vini le cuffie anche a te le cuffie a me la tazzina c'è Temu c'è proprio tutto 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 anche me tutto vabbè ciao cuorecini ciao ciao tantissimi bacini e tanti tanti like e like vabbè fatelo ciao ciao ciao